Salve gente, anche questa sera ci vediamo ma sono super gazzato Mi sono completamente dimenticato di parlarvi dell'iPad Air che sarebbe stata una novità fantastica Perché c'è arrivato l'M1, ci sono dei colori bellissimi Arriva al 5G, arriva sempre alla stage ma con tutta essa roba con me sono sinceramente proprio scordato Quindi così ve lo dico Tu perché hanno presentato un botto di roba e mi sto gazzando Domani arriva il video bello 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 sull'evento, tutto bello fatto scritto bene a modino Ma oggi sono qua per essere noi di tutte le novità che hanno appena annunciato, super veloce, super fast Perché sono veramente gazzato da un nuovo Mac Studio che ormai ci aspettavamo tutti da due giorni Ma non così potente, hanno unito due M1 Max creando un prodotto della Madonna che supera il Mac Pro Però hanno detto che il Mac Pro deve ancora arrivare e sarà per un altro evento Hanno detto proprio così, sì, e hanno detto anche che la transizione è completata Anche se non hanno presentato nessun iMac da 27 pollici Quindi deduco che questo nuovo Mac Studio si andrà un po' a classificare come tale Quindi vi vado subito a proprio leggere gli appunti per come li ho scritti In che è molto bella e anche interessante e particolare Perché più che altro non c'è stato, di solito ci sono delle riprese Anche proprio inizio dell'Apple Park Invece niente È stata un'esplorazione di questo nuovo logo Apple Che c'è nell'invito dell'evento Quindi molto AR Quindi anche io dicevo, avevo letto su Twitter Ok, magari fanno una preview di questo visore VR No, invece no, non c'è stato, ve lo dico subito Quindi hanno parlato, parlando, va bene, di Apple TV Plus Prodotti che vincono premi Prodotti che stanno per arrivare Ma a noi non ci interessa, sinceramente Hanno presentato due nuove colorazioni Una nuova colorazione per iPhone 13 E una per iPhone 13 Pro Quindi il verde che tutti conosciamo per iPhone 13 E hanno presentato un nuovo verde fantastico per iPhone 13 Pro Che secondo me è bellissimo Non so se vedete le foto a schermo Ve l'ho messo così il video, non lo so iPhone SE, stesso prezzo ovviamente Con colori più o meno simili Perché al posto del nero c'è il mezzanotte Al posto del bianco c'è il galassia E poi c'è il solito product red 5G ovviamente Con un nuovo display Quindi c'è tipo fotocamera migliorata Display più potente Ma non con ceramic shield Quindi una via di mezzo Bello, comunque c'è nulla di che Si preordina venerdì Arriva il 18 di marzo Quindi il venerdì dopo iPad Air Colori bellissimi Quindi simili a quelli di iPad mini Però al posto del viola scuro C'è l'M1 Vabbè c'è l'M1 Poi c'è un azzurro C'è un viola Ci sono dei colori molto molto belli Allora c'è Central Stage 5G e il prezzo di 599 dollari In Italia ancora non lo sappiamo Disponibile anche lui dal 18 marzo Il preordine è da venerdì Ma ora possiamo la rava veramente Veramente Che mi ha esaltato Proprio a palla Domani arriva l'analisi Oggi ve la voglio proprio Esporre così M1 Ultra 2M1 Max Collegati praticamente Ma ancora Cioè Più potenti 2M1 Max Insieme a un core più Si cazzo Si 100 Arriva fino a 128GB di RAM CPU Una roba assurda 20 core di CPU 20 core di CPU Che cazzo Il Mac Pro Ne ha 16 Il Mac Pro Ne ha 16 E Ovviamente l'hanno preso per il culo Arriva il Mac Studio Appunto Cioè Questo M1 Pro M1 Ultra È 65% più Potente di un M1 Max Al massimo Roba assurda Quindi questo Mac Studio Ha 4 Thunderbolt Sul retro 2 USB A Molto interessante E un HDMI Oltre all'alimentazione E davanti Altri 2 Thunderbolt E un lettore RISC ad SD Quindi Molto bello Ed anche tutti Sapevamo Non ne so neanche parlare Perché alla fine È lui Regge 4 Pro Xplay XDR E 8 televisori 8 televisori In 4K 50% Più potente Di Mac Pro Più o meno Facendo vari calcoli Più o meno Quindi io voglio capire Questo Mac Pro Che devono ancora presentare Io ho detto Vabbè Questo è il nuovo Mac Pro Quando hanno cominciato a dire queste cose E invece no Il Mac Pro Sarà ancora più potente In questo caso Mi gaso un botto E Insieme ad esso Hanno presentato Quello che Prendete il nuovo IMac Perché lo colleghi Al Mac Studio E Però È questo Display 27 pollici 5K Molto interessante Con Webcam Integrata da 12 megapixel Con central stage Cosa Veramente Mi piace tantissimo E dentro Ha una 3D Bionic E ne avevo parlato In un video di quest'estate Che è uno dei video Meno visti Del mio canale Io Ve l'avevo detto Ne abbiamo già parlato Quindi Può caricare tutti i Mac Questo display Ha 3 USB CD Con una Thunderbolt Ed è Fighissimo Anche se Sono prenotabili Invece da oggi Arrivano Anche se Il 18 marzo Il Mac Studio È prenotabile Sia con M1 Ultra Che con M1 Max Che vi devo dire Evento Più bello della mia vita Forse Gli eventi dei Mac Mi gasano un botto Gli eventi dei Mac Mi gasano un botto Per quanto Tutti gli eventi Apple Che ho visto Sono stati Di mio granimento No Non è vero Quindi ragazzi Lasciate like Perché ho preso Un sacco di appunti Per questo evento L'ho seguito Sì cazzo Cioè io urlavo tipo Mentre presentavano Sta roba Ma che cazzo Sta succedendo Ma che cazzo Sta succedendo Ho fatto un sacco Di screenshot Non so se li vedete In questo video In quello di domani Ma domani Ore 13 e 30 Vi aspetto sul canale Mi raccomando Eh Regà Questa è tanta roba